no c'è un culo davanti dai o almeno no no dai ecco quello già vieni che è successo? no mi seguo dai ragazzi no no lanciami dove? no dove sono? no no eccomo anch'io 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 dai ragazzi parto a parto incominciamo dai tutti sopra di me e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi sono con tutti questi tizi ciao ho buttati via mega parole si siamo sempre con Shadowfire Juicyx Tony e Michael salutati tutti ciao ciao ragazzi ciao ok siamo sui mineplex ehm si e che te ci facciamo un po' di che cazzo oh no no andiamo a suicidareci andiamo andiamo a suicidareci andiamo a suicidareci vieni vieni perché vabbè due uno no che puttata ahahahahah fa tutto ok questi rumori vabbè ehheh che cazzo è chi mi lancia palle di neve Mentre Tony, Shadowfire e Michael laggano Io vado a fare Un minigame Facciamo i mixed arcade? O quello volete fare ragazzi? One in the Queer Non so se è pronunciato bene Ma entriamo allo stesso Ok Ciao Juicy Cross Juicy Cross Junper sta cosa Tanto c'è Secondo me D'Italian Gamer Dammi il Dio Puzzle di Steam Viewer Tu qua Si è troppo montata la raga Cos'è sta cosa Junko Lascia Oh one in the Chamber One hit Juicy Una prezzo Già hai fatto una trilla friggi italiana non avrà chi da ricordare come si chiama da chi perché cos'è o da chi vero avrà il livello e il laurea è un pezzo di me ok che un lag che vogliare no è stato tu e già avevo detto che è risciuta non sono la bocca e sono oggi ho ucciso io toni no non mi uccidete no lag dai ma con il pro ma porco sii ho sfiorato che è no ovviamente ragazzi juicex ha pure un canale youtube se vi volete iscrivetevi lascio il suo canale youtube in descrizione iscrivetevi se volete mettete tanti dislike ecco no e tu te dicevo eh puzza sempre bello dai oh ci riesco a uccidere eh eh ti ha vinto no drp dottore p ah ecco ma perchè non volo no ragazzi questa è una dei minigame adesso andiamo a farlo un altro quindi metto in video e ci vediamo dopo ciao ciao mamma che puttana non voglio morire vai via no 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 muori it's time to escape i qui ti prendo ti prendo no ok ciao ok ciao community music no anche l'occhio poi ok 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 ragazzi eccoci adesso facciamo il mix s domani le italiane pc che bella voce husie ecco oh dirti possiamo cosa questo conto mi devo andare male e devo andare male sede coltato marco marco giusto non lo so mi faccio male lo stesso non lo siete dove stavano la gara è un dettaglio squadra noi siamo verdi perché no dobbiamo cercare la scappa tempo dobbiamo uccidere questo è qua tutto contro il lui vai il nato dobbiamo vincere ragazzi tutti qui dentro la casa tutti qui dentro una coltivindici si tutti qui dentro la casa giustizia no giustizia no ok questo è un'altra cosa attenzione da ragione se ci vuole c'era amo su io e così un'altra cosa non lo so no pure io sono morto un po' l'anno 6 direi giustizia anche davanti a me no? io vedo la scritta qui ciao Giusex ciao ciao Giusex mi vedi? mi vedi? ok basta io vedo il suo nome qui Giusex però non c'è guardalo lì sopra con la fly vieni qua Alex 227 84 29 17 poi c'è il fiscale a crcollo intemico non ci sono alla fai ragazzi la troppo vale a casa si si ma che dito? ma che fa? scusco tu vedi qua guarda ragazzi sono sopra ma ragazzi sono sopra ma la 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 ho preso la presa che sono un giampato un giampato un giampato un giampato sotto che no troppo aiutare come la città di pc un uomo punto un uomo un uomo con chi con chi vuole fare forte che paura l'ho raggiunto, l'ho raggiunto, l'ho raggiunto, l'ho raggiunto, oddio, oddio, l'ho raggiunto, l'ho pure ucciso, io, non ho ucciso, ancora vivo, no, 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 l'ho ucciso, quello che li sopra, con le hack, con la fly, con cosa hai scritto, cosa scrivi, Giusex, non si fanno queste cose, ce l'ho davanti, ce l'avevo davanti, eccolo, eccolo, no, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, è mio, no, è mio, è mio, mentre Giusex non parla, No, io sto scrivendo cose zozze in chat, eh, lo vedo, eh, ragazzi, lo pigliate, 40 ore che corre, no, c'è un altro, un altro, un altro scappato, bella, cosa, vinto, hanno vinto, vabbè, GG, no, hanno vinto loro, ok ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al canale, giusto, ecco, perché lo metto in chat, no, in chat, esiste la chat, esiste la chat, vabbè, niente ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, bella, ciao, ciao, ragazzi,